Grazie a tutti ragazzi per questo nuovo video Oggi vi voglio vedere le tartarughe baby di terra e il mani e il mani Che sono in pieno letargo Però penso che le temperature si sono qua in Tricile Se ne aumentano qualche settimana e si svegliano Là dentro c'è una che è una femmina più bella Là dietro c'è un'altra, non si vede E le altre due sono qua dentro, perché sono quattro Questo mi è serva finta Allora ho prenduto un po' di semi di scagliola, quella che ho sopra gli uccelli Per far crescere il betta Io devo mettere l'acqua, infatti però non cresce Poi metto l'acqua e cresce Là c'è il dispensare di acqua automatico E qua dove metto il cibo Il letargo deve essere una cosa controllata In uno spazio circoscritto, controllato Per sapere dove sono le tartarughe Io due sono sicuro che sono vive Perché sono quella e quella là dietro Quelle sotterrate là dentro non so come stanno Per ora questo habitat che creato io va bene Per la loro grandezza, appena crescono lo cambierò Ne farò uno diciamo simile ma molto più grande Come potete vedere è quasi alto Il masso di questo e si apre la casetta Aspetta che, anzi Ora faccio vedere Ecco Eccolo C'è terra Mischiata con Con secatura Per tenere al caldo Righiudiamo Questo è tutto ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao Ci vediamo al prossimo video Ok Grazie a tutti.